Sarebbe risultato positivo alla droga l'investitore che ieri mattina ha travolto sulle strisce pedonali in via Signorelli un'anziana e la sua badante. Questo quanto risulterebbe dalle prime analisi effettuate in ospedale non ancora ufficiali. Per i risultati si dovrà ancora attendere infatti una decina di giorni. L'uomo alla guida, un cinquantenne di origine partenopea ma residente ad Arezzo, inoltre sarebbe schedato in prefettura come assuntore. L'incidente è avvenuto giovedì mattina attorno alle 10. L'anziano, un 86enne e la sua badante, una quarantenne polacca, erano in giro per la consueta passeggiata mattutina. I due sono stati travolti sulle strisce pedonali da un'automobile proveniente da via Giotto. Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. All'arrivo dei soccorritori, i due erano ancora stesi a terra sull'asfalto. Sono stati così caricati sulle ambulanze per ricevere i primi soccorsi. Nel frattempo la polizia municipale ha cercato di capire la dinamica dell'incidente. L'uomo alla guida dell'auto, una Peugeot 207, era in evidente stato di alterazione. Dopo gli accertamenti è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per effettuare le analisi tossicologiche. L'anziano ferito è stato portato in codice giallo con l'elisoccorso Pegaso a Careggi. La donna invece è stata trasportata alle scotte di Siena in codice rosso per un trauma commottivo.